Questa sera si siede qui nel salotto di Effatà al Salone del Libro la nostra pluriautrice Chiara Bertoglio. Sicuramente i lettori che ci conoscono sono già affezionati a te per via dei numerosi libri che hai scritto sul rapporto tra spiritualità, teologia, musica classica. E quindi li citiamo così per rinverdire la memoria. Comunque Logos è musica, per sorella musica, l'amore sa tendere, musica maschere viandanti e quindi chi vuole visitare il nostro sito e cliccare su questi libri può trovare tutte le notizie che li riguardano. Però stasera vogliamo fermarci sull'ultimo libro che hai pubblicato per noi e che esula un po' da questo tuo cliché. Che si intitola I colori della misericordia, 12 storie di amore vero. E vorremmo chiederti come è nato questo libro e chi sono queste persone? Sì, innanzitutto voglio esprimere la mia gratitudine anche a Effatà, te in particolare e all'editrice per la fiducia che mi ha dimostrato in questi anni e per il bellissimo rapporto di amicizia e di cooperazione che si è instaurato. I colori della misericordia nasce sul campo direi perché nasce da incontri molto belli che ho avuto con persone veramente speciali. Sono persone che hanno incontrato episodi anche difficili nella loro vita ma li hanno saputi vivere in maniera positiva, con speranza, con amore, con gioia e trasmettendo a chiunque le incontrasse un messaggio solare, positivo. Io stessa sono uscita molto arricchita da questi incontri e ho pensato quindi di condividere questo arricchimento con chi ha voglia di leggere questo libro. Sono persone normali che rifugono dall'idea di diventare dei santini, persone molto semplici con vite di famiglia, vite normali quotidiane in cui c'è qualche cosa di speciale che può essere il modo in cui vivono per esempio una forma di disabilità, può essere il modo in cui accolgono la vita anche se si presenta in maniera un po' imprevista, un po' difficile, un po' problematica. Possono essere persone che trovano modi nuovi, diversi, alternativi per vivere la generosità, l'accoglienza dell'altro, la vicinanza alle sofferenze delle altre persone ma sempre con un sorriso che è quello che vorrei a mia volta poter trasmettere ai lettori. Bene, sappiamo che il sorriso tu lo trasmetti anche facendo tantissimo volontariato con i doni che hai ricevuto. Tu hai questi doni meravigliosi di saper amare la musica, di suonare magnificamente il pianoforte e anche di saper presentare la musica classica anche quando suoni durante i concerti con parole chiare, di avvicinare le persone, di far conoscere appunto gli autori che suoni. Ma poi sappiamo che credi molto nel fatto che la bellezza della musica possa aiutare le persone che soffrono e quindi che molte volte porti la musica, porti la tua arte all'interno degli ospedali e anche delle carceri. Se vuoi raccontarci qualche episodio di questa tua attività, grazie. Con piacere perché effettivamente sono realtà che danno molto senso alla mia vita perché a volte quando si è solo in una sala da concerto si perde un po' il senso anche sociale di quello che si sta facendo che ovviamente vale sia per gli ascoltatori dei concerti tradizionali sia per quelli un po' speciali però nei contesti un po' speciali questo risalta ancora di più e ci fa sentire l'importanza e la bellezza della nostra missione. Mi viene da pensare proprio a un contesto come quello del carcere minorile dove ho avuto la gioia di incontrare una ragazzina che aveva rubato qualche cosa che alla fine di un concerto in cui abbiamo osato presentare un autore come Bach che è uno dei più grandi ma apparentemente anche dei più difficili e alla fine del concerto appunto questa ragazzina è venuta a dirmi devo dirti una cosa, lo sai che nel cortile dell'aria è fiorito il ciliegio? Era l'unica cosa bella che c'era lì dentro questo ciliegio in fiore e ha voluto condividerla con noi che avevamo suonato con lei oppure delle persone che in reparti anche problematici degli ospedali vengono alla fine a dirti ma quest'ora di musica è stata utile come una chemioterapia però senza gli effetti collaterali della chemio ovviamente a modo suo, però è un modo molto immediato, molto diretto per entrare a contatto con il cuore delle persone e per offrire quello che abbiamo ricevuto a nostra volta senza imporre niente perché poi ognuno nella musica trova forse quello che cerca ma in ogni caso che questo oggetto di ricerca sia una persona come Dio sia all'infinito, all'assoluto o anche solo tra virgolette la forza di andare avanti penso che comunque tutto riconduca a quella bellezza che tutto muove come direbbe Dante Bene, ancora una piccola domanda perché sappiamo che tu continui a studiare e ad approfondire tante tematiche quindi se ci racconti un po' quello che stai così sviscerando in questo periodo Beh, l'ultima follia è stata iscrivermi a un master in teologia all'Università di Nottingham dove mi trovo benissimo perché è un contesto molto ecumenico molto aperto e molto serio in cui si riesce veramente a imparare tantissimo è stata una scelta che ho fatto ovviamente prima di tutto per interesse personale e anche per acquisire dei metodi più sofisticati per trattare il rapporto fra musica e teologia e adesso sono alle prese con gli ultimi tocchi ai miei ultimi lavori e si concentreranno comunque su Bach perché è uno dei compositori che trovo veramente più ricco dal punto di vista del pensiero dell'arte, della bellezza e anche di una carica umana che a volte viene trascurata parlando di la sua musica ma che secondo me è assolutamente trascinante, travolgente Bene, se qualcuno volesse così seguirti in questi studi, in queste attività molteplici che hai dove può trovare aggiornamenti su quello che fai? Beh, sul mio sito internet chiarabertoglio.com poi c'è il blog chiarabertoglio.blogspot.com e poi la pagina Facebook, l'account Twitter e così via Benissimo, grazie